C'è un mondo dove le streghe governano i cieli del nord, dove gli orsi bianchi sono i più coraggiosi dei guerrieri e dove ogni umano è congiunto ad un animale spirito che gli è vicino quanto il proprio cuore. Vedremo la bambina? Direi di sì. Ma questo mondo è dominato dal magisterium che mira a controllare tutta l'umanità, della cui più grandi minacce sono una bussola d'oro e l'unica bambina destinata a possederla. Che cos'è? È la bussola d'oro, Laira. È destino che tu la abbia. Ma a che serve? Dice la verità. È della massima importanza, forse per tutto il creato. Lei chi è? Non lo so. Molto presto dovrò tornare al nord. Potresti venire con me? Io? Andare al nord? Al nord. Fa freddo lassù. E a conoscenza delle profezie delle streghe? Crede sia lei quella bambina? Quando stavi per lasciare il college, il maestro del Jordan ti ha dato una cosa, vero? Dalla a me. No, non voglio. Pan, è lei. È lei che dirige il magisterium. Ti troverò con Laira. Questi sono i capi delle famiglie egiziane. Sei sotto la nostra protezione. Se io facessi il tipo di viaggio che credo tu faccia, ingaggerei un orso corazzato. Trovate lì! Io ero in tennica! Ti servirò nella tua campagna fin quando non avrai vinto. lei è in possesso della bussola d'oro. Dove essere trovata. Il magisterium mira a controllare tutti i mondi. Avrai bisogno di destrezza e coraggio. Signorina Laira, sei pronta a volare? Quando arriverà il momento, noi esterperemo a loro la forza. Se tenete alla vita, non avvicinatevi. Vieni, Laira. Non sono tua. Non sarò mai tua. È tutto qua! !